Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Bene, riprendiamo le nostre missioni qui con Michael questa volta e vediamo qui che missione ci aspetta. Grazie a tutti. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you lowlife, whore-mongering, asswipe! Did someone say yoga? No, I think she said, whore-mongering, asswipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes, she's very centered. A regular oasis of peace and tranquility this one. A girl with anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too, please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, no. The yoga is for sharing. Come, come, Miguel, come. Awesome. So, Fab, if you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Yeah, no doubts. Why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Miguel. Now here is good. We have the sun and the Murebunda. The Asshole. Now we begin to put the Asshole to the earth. Yes? We begin each sequence. Katasana. Yes. Or mountain pose. All right. Un. Deux. Trois. Mouth and Enos are perfectly in line. Show him, Amanda. Un. Deux. Trois. No, adesso devo fare io. L. R. Vediamo così. In and out with the breast, Miguel. In full of the nose. Ah, poi devo rilasciare. Adesso a destra. Adesso a destra. Now, in through the nose and out through those wrinkled lips. Maintain it. Eh, questo è difficile. E se poi fallisco? Ecco. All this is going to have to do. Now we will do something more complicated. Sometimes, when I do this pose, I weep uncontrollably for hours. Oh, wow. You feel that... The emotion inside. Let it go. L. Michael, join us. Questa è una missione difficile, eh. Occhio. Potrei fallirla. Si, mo' cade. Questa è un'emozione, ok? Ricorda, ragazzi. Noi, siamo gli non conosciuti. Showa, Amanda. Non credo che Michael sia a questo. Può te sorprendere. Plank. Chattaranga. Chattaranga, sì. Sessi il flow. Tutto è fluendo in me. Mike, potresti... Sì, mi spiace. Questa la voglio fallire, voglio vedere che cosa fa. Se faccio così... Ah, ecco. Così, mi sono tolto la curiosità. Questa è stretching. Questa è un po' l'idea, ma che non sceglieva. Si è lungo, viste in una posizione. Tesi lungi funzono, o ne? Dimmi che non ti senti centriati. Adesso prendo l'air e rilassalo. Questa è una gi者, per un mese, ti be Cristo? Ok. La respirazione è quasi la cosa più importante, no? Guarda la concentrazione sull'occhio, è come un guerrilla con un telefono. Viva, per favore, Michele. Letta l'escrizione. Non vantaggio, vieni. Oh, 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 oh! Oh, oh! Hey, enough of that! Yoga is the answer, Michele. But what is the question? Uh, why am I such a moron? We are leaving, and we are never coming back! Good! You are alone, you pathetic psychopath! Ugh, fuck you! And that... Boney... French... Fuckin' Yogi! Vabbè... Vabbè... Uè... Jimmy! S'era bloccato un'altra? Ah, cos'è? Deve fumarsi una canna? Aspetta che devo trovare le scale, dove sono? James! Leave me alone! Oh, yeah, fuck you! You know what? If there was a rape button, I'd be using it right now. Unless you're a bagot and you'd like that sort of shit. And then I'll just rape your mom instead! Nice TV. Did I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? All right, come on. I want to go for a ride. I got to meet a friend. All right, so I go and meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on! This is fucking bullshit! Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies! They're the only people you speak to! Vabbè, basta che non andiamo in bici, come l'altra volta. All right, where's your friend? Burger Shot! Oi, oi. Ok. Madonna. Do you know how much this car costs? And the guys, we're going down to the diner at the class. I'm going down to the glass. Ride. Dude, please. You know, you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No, you're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the dope-smoking, game-playing, live-at-home world. Bob! Live-at-home world owes him a living millennium. I knew it! I knew it! The mask was going to slip. The monster's been exposed. The hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. What? Eh, madonna, oggi proprio... Sembra un ubriaco. There he is, the friendly neighborhood drug dealer. Yo, bro, man, what's up? What's up, man? Good to see you. What are you turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy Pot by the pound? Mm. Ha, 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 ha. Ah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah, 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 yeah. Come on, now, what the fuck? Jimmy, just hold on a second. Oh, all right. All right, later on. Careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. Vabbè. Sa che cosa ha preso. All right, then. Now what? Can we just get back to the house, please? Problem of comprehension. You're on radio, man. Beh, dai, questa missione è stata molto difficile, devo dire. So, uh, want a drink? I'm driving. Because normally you're such a between the white line, friend to the pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Ma signora! Mia, è già morto. Okay, your turn. Maybe when we get home. Eh, who's that square now? Hanno fumato. For cacchio. Porca miseria. Stavo lamentando che era troppo facile. Mai lamentarsi. No, si è fermato. No, si è fermato. Ma magari questo è un incubo. Manca solo la figlia, poi l'hanno abbandonato tutti. colori psichedelici. Dove siamo? Cos'è? Il pianeta delle scimmie. Eh sì. No. C'è pure l'astronave aliena. Ma questo è un caso per Molder e Skelly. Sembrano più veri questi alieni che quelli che fanno vedere a mistero. Eh, ecco. 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 E vai. Ah, così vogliamo. Superman. Ma ci sfraccelleremo così? C'è pure la base musicale Yeah Boh, sfraccelliamoci qua Ah, si è svegliato tipo Inception Che è finito il sogno No, non è ancora finito Ma questo è ancora il sogno? Mi è ancora drogato Accidenti Ah, boh, sono così arrivato Certo che così ci arrestano Eh sì, tanto sono là Ecco, si è ripreso Permesso Eh, mi sa che non ci sarà più nessuno Ah, ma allora era vero Michael, io credo che hai finalmente perduto il tuo mente Il tuo comportamento recenti e il compagno che hai già fatto me ha molto preoccupato Adesso hai fatto attaccare il mio Fabian Che è un amico amico E poi Jimmy ha detto che hai fatto la droga mentre lo stavano in il tuo carro Sì, abbiamo deciso di andare a andare per un tempo Ah, quindi è tutto vero Ammazza Eh, yoga è disponibile, mortacci sua 3.000 dollari mi ha tolto Cacchio Vabbè Allora io vi ringrazio per aver visto il video E ci vediamo poi nel prossimo Ciao a tutti Allora io vi ringrazio per aver guardato il video